Buonasera dottoressa, l'incontro di oggi parlerà proprio del futuro dell'Europa ma soprattutto anche del discorso dell'Europa a più velocità. Sì, direi che questa idea dell'Europa a più velocità si è fatta a strada con sempre più forza, soprattutto dopo gli incontri di Roma, che prendono atto della difficoltà ad andare avanti insieme tutti allo stesso tempo e vedono in questa Europa che si muove a più velocità appunto come l'unica possibilità di avanzamento in una fase in cui occorre avanzare. Il mio intervento si concentra in particolare sulla dimensione della zona euro. La zona euro è già un'Europa all'interno dell'Europa, cioè dei paesi che hanno deciso di andare avanti più rapidamente. Il problema che abbiamo ora è che all'interno di quest'area ci sono più velocità, ma non nel senso più velocità di integrazione, ma più velocità di crescita, di performance e questo sta creando grandi divisioni all'interno della zona euro e anche una certa stanchezza da parte dell'opinione pubblica. Ecco, il mio punto cruciale sarà uno, che l'area dell'euro non può permettersi di rallentare il suo processo di integrazione, che i problemi della casa costruita a metà rischiano di essere, di diventare grossi, sempre più grossi con l'andare del tempo e che pertanto non soltanto l'area euro debba avanzare a una velocità sostenuta e affrontare i problemi di architettura irrisolti, ma anche affrontare i problemi strutturali che hanno determinato queste più velocità. Cioè, per dirla in maniera più esplicita, ci sono alcuni paesi che crescono più rapidamente, che hanno già risolto i problemi di disoccupazione, hanno ammortizzato il lungo peso della crisi, altri che invece avanzano a rilento e tra questi, come sappiamo, c'è l'Italia, ma non è la sola, abbiamo il problema della Grecia. Ecco, all'interno dell'area euro non ci possono essere più velocità di crescita e di performance e affinché questo venga affrontato occorre una collaborazione, un'azione, direi un circolo virtuoso tra l'azione che va fatta a livello nazionale con le riforme strutturali e con la disciplina in generale rispetto alle regole europee e un'azione a livello europeo per consolidare questa casa e farla sentire veramente la casa di tutti. Grazie.